Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di uno strano disegno nel cielo eseguito da un pilota della compagnia aerea Lufthansa. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Il volo Lufthansa LH306, che avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Catania, si è trovato ad affrontare una serie di sfide inaspettate durante il suo avvicinamento. La torre di controllo di Catania ha respinto l'ok per l'atterraggio a causa dei continui cambiamenti di vento segnalati sulla pista, costringendo il pilota a cercare un'alternativa. Con l'incendio dell'aeroporto di Catania, avvenuto il 16 luglio, ancora fresco nella memoria, la situazione si è fatta ancora più delicata e le precauzioni sono state massime. L'aereo è stato dirottato alla Valletta, Malta, per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e dell'equipaggio. Non è chiaro se le condizioni meteorologiche siano state la causa principale del cambio di programma, ma la presenza di raffiche di vento ha certamente complicato la situazione. In questo contesto teso e insolito, la sorpresa è giunta quando è stato notato il percorso dell'aereo tracciato su Flightradar. Una rotta che, a sorpresa, sembrava disegnare in cielo un grande pene, attirando l'attenzione e la curiosità dei passeggeri e dei controllori di volo. Mentre alcuni si sono chiesti se si trattasse di una mera coincidenza o di manovre tecniche, altri hanno immaginato che potesse essere stato un atto di sfida o di disappunto da parte del pilota per il cambiamento improvviso di destinazione. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media, dove la foto della strana rotta è diventata virale in pochissimo tempo, scatenando discussioni e sorrisi tra gli utenti. Nonostante l'insolito inconveniente, il volo si è concluso con successo e i passeggeri hanno potuto sbarcare alla valletta senza ulteriori intoppi. Anche se inaspettato, l'episodio ha dimostrato ancora una volta la precisione e la professionalità dell'equipaggio nel gestire situazioni impreviste. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti le ultime curiosità. A presto!